Mi chiamo Lucia, i tre oggetti che mi rappresentano che ho scelto sono questo alberello di Natale perché rappresenta un Natale molto bello che abbiamo trascorso in questa casa, questa collana che rappresenta la mia personalità, allegra, solare, colorata e il terzo oggetto che mi rappresenta è questo runner indiano che ho scelto in questo bellissimo viaggio che ho fatto con tutta la mia famiglia, con mio marito Nicola, i miei figli Beatrice e Giuseppe e mi è rimasto impresso nella mente e nel cuore. In questa avventura ho scelto mia figlia Beatrice che è una ragazza di 20 anni, sono sicura che ci divertiremo insieme moltissimo e sarà una serata da ricordare. Mi chiamo Luisa, le tre cose che mi rappresentano sono questi pennelli perché io dipingo i tessuti e dunque i colori sono parte della mia vita. La seconda cosa che mi rappresenta invece è questo anello a forma di conchiglia perché è stato un regalo che mia madre mi ha regalato per i miei 26 anni e non me lo tolgo mai perché è un ricordo di mia madre. E la terza cosa che mi rappresenta è Tinto, il mio cane con questo guinzaglio. Lui è un cane molto simpatico, molto divertente. Ho scelto come compagno di viaggio in questa puntata mio figlio Ascanio perché mi è sembrato la persona più adatta e spero che ci divertiremo. Il tema della serata è la tradizione familiare. La serata di stasera sarà sulla leggerezza.